Ma infatti non è da sottovalutare la questione economica. L'Europa in questa circostanza si sta suicidando. Affrontare questa crisi con l'assenza totale di difese economiche, con la sottovalutazione di tutte le grandi conseguenze finanziarie e industriali di questa crisi, ci porta probabilmente a una caduta di tutta la manifattura europea. Stiamo parlando della Germania, stiamo parlando degli imprenditori italiani, di distretti industriali come Sassuolo, ma tanti altri, che si trovano improvvisamente a dover affrontare una crisi maggiore. Forse un recovery per l'energia però è alle viste dell'Europa, se ne sta discutendo. L'unico recovery serio sarebbe fare un grande accordo strategico proprio con i nostri fornitori. Noi parliamo con l'Arabia Saudita, parliamo col Qatar, che non sono democrazie. Possiamo parlare con la Russia per fare un accordo strategico di lungo periodo. Per la transizione energetica ci conviene. È anche una causa possibile di pace, perché non è interesse di nessuno disaccoppiare l'Europa dall'Asia, come sta avvenendo. È interesse forse degli Stati Unitensi, che non hanno nulla da perdere da una guerra in Europa. Combatteranno fino all'ultimo ucraino, fino all'ultimo europeo, ma non è il nostro interesse. Lei dice che non crede in un cambio di rotta da parte dell'amministrazione americana rispetto al conflitto ucraino. Da parte loro non c'è un cambio di rotta, perché anche dopo l'incontro con Draghi la parola negoziato non è apparsa nei comunicati ufficiali. Invece hanno aumentato le forniture militari per decine di miliardi. A volte lei sa che contano molto più le parole dette in un faccio a faccio interno piuttosto che quelle scritte sul comunicato. Mi contano ancora di più i fatti, cioè il fatto che hanno finanziato la guerra con un'ulteriore apertura di crediti verso l'Ucraina. Crediti che non saranno mai restituiti, peraltro. Quindi stanno regalando armi a un conflitto che è molto pericoloso. Gli Stati Uniti hanno investito 53 miliardi in due mesi, è più tutto quello che... Gli Stati Uniti hanno messo una marea di denaro, soprattutto molto, gran parte in armamenti.